La tratta ferrata sicignano Lago Negro potrebbe ritornare a vivere. Lo stabilisce un decreto del Ministero della Mobilità Sostenibile che nel presentare lo schema relativo alla suddivisione dei fondi di oltre 4,7 miliardi di euro da assegnare alle città metropolitane di Genova, Milano, Napoli, Roma e Turino, ha anche annunciato l'approvazione in conferenza Stato-Regioni del decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile previsto in accordo con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e della Cultura e del Turismo per il miglioramento o la riattivazione di tratte ferrate che vengono ritenute di pregio turistico. In conferenza Stato-Regioni è stato approvato l'elenco delle 26 opere che saranno finanziate nell'ambito dei fondi messi a disposizione dal Governo per il piano complementare, ossia disponibilità economiche che, pur non rientrando nei finanziamenti del PNRR, saranno comunque soggetti a regole e procedure simili al recovery. Si tratta, fanno sapere dal Ministero, di linee gestite da Rete Ferroviaria Italiana e da Ferrovie Regionali che si trovano in zone di particolare pregio paesaggistico, culturale e ambientale che potranno tornare in servizio o essere maggiormente utilizzate valorizzando i relativi territori anche grazie ai fondi del piano complementare. Si tratta di un decreto molto atteso, continuano, e la lista delle ferrovie potrà essere integrata con ulteriori linee su proposta delle regioni interessate. 26 al momento le prime tratte ritenute di interesse su cui il Governo è pronto ad investire nuove risorse e nell'elenco fornito dal Ministero ieri in occasione della conferenza stampa c'è anche la tratta Sicignano-Lago Negro, gestita da Rete Ferroviaria Italiana. Circa un miliardo e mezzo i fondi stanziati per le ferrovie regionali nell'ambito del piano complementare che saranno quindi destinate ad implementare e migliorare la rete regionale anche e soprattutto per fini turistici. Delle 26 tratte individuate, quali destinatari degli interventi, soltanto due sono quelle che interessano la Campania ed in particolare sono la tratta Avellino-Lioni-Rocchetta-Sant'Antonio che dalla Campania porta in Puglia e appunto la Sicignano-Lago Negro che attraversa interamente il Vallo di Diano.